Siano lodati Gesù e Maria, carissimi fratelli e sorelle. Abbiamo parlato qualche tempo fa e a più riprese della verità profetico-mariana del calcagno di Maria, ovvero i suoi consacrati. Non ritorno sul calcagno di Maria, ma vi indico in descrizione a questo video dove potete leggere o ascoltare qualcosa in merito. Se alla luce di questa verità ci si sente incuriositi e ci si domanda chi siano, chi sia questo calcagno di Maria, quale sia l'identità di questi figli eletti della Madonna, di cui parlano in modo specifico San Luigi di Monforte e San Massimiliano Colbe, è lo stesso profeta dei tempi di Maria, il Monforte, a delinearne in maniera splendida la fisionomia morale e spirituale, l'identità spirituale e morale, ovvero gli apostoli degli ultimi tempi. Ai paragrafi 57 e 59, nella sezione del suo trattato della vera devozione alla religione di Maria, nella sezione in cui si parla di Maria negli ultimi tempi e di conseguenza dei suoi figli, il santo francese presenta l'identikit, potremmo dire, degli apostoli degli ultimi tempi, di questi militi a servizio del regno di Maria, nei tempi bui in cui il principe delle tenebre sferrerà i suoi attacchi più violenti e tenderà le sue insidie più sottili alla chiesa di Cristo. Siamo tutti, fratelli e sorelle, invitati ad ascoltare, meditare e riprodurre possibilmente le magnifiche qualità dei perfetti servi di Maria. A quello che dice il Monforte proverò ad aggiungere qualche altro commento, o meglio, più che commento, cercherò di farvi ascoltare la voce dei grandi maestri spirituali che vanno a puntualizzare alcune dimensioni che vengono indicate dal Monforte come caratteristiche peculiari degli apostoli degli ultimi tempi. Leggiamo dunque nel trattato della vera devozione. Chi saranno questi servitori schiavi e figli di Maria? Saranno fuoco che brucia, ministri del Signore, che porteranno ovunque il fuoco dell'amore divino. Saranno come frecce in mano a un eroe, frecce acute nelle mani della potente Maria per colpire i suoi nemici. Saranno figli di Levi, ben purificati dal fuoco di grandi tribolazioni e molto uniti a Dio, i quali porteranno l'oro dell'amore nel cuore, l'incenso della preghiera nello spirito e la mirra della mortificazione nel corpo. E saranno ovunque il buon odore di Gesù Cristo per i poveri e i piccoli, mentre risulteranno odore di morte per i grandi, i ricchi e gli orgogliosi del mondo. Saranno nubi tonanti e nuvole volanti nell'aria al più piccolo soffio dello Spirito Santo. Senza attaccarsi a nulla, senza attaccarsi, senza meravigliarsi di nulla, senza mettersi in pena per nulla, spanderanno la pioggia della parola di Dio e della vita eterna. Tuoneranno contro il peccato, grideranno contro il mondo, colpiranno il demonio e i suoi seguaci, trafiggeranno da parte a parte per la vita e per la morte con la spada a due tagli della parola di Dio, tutti coloro ai quali saranno inviati da parte dell'Altissimo. Infine, dobbiamo sapere che saranno dei veri discepoli di Gesù Cristo che camminano sulle orme della sua povertà, dell'umiltà, del disprezzo del mondo e della carità, insegnando la via stretta di Dio nella pura verità, seguendo il Santo Vangelo e non le massime del mondo. Senza vivere in ansia né avere soggezione per nessuno, senza risparmiare o farsi condizionare o temere nessun mortale, per potente che sia, avranno nella loro bocca la spada a due tagli della parola di Dio. Sulle loro spalle porteranno lo stendardo della croce segnato dal sangue, il crocifisso nella mano destra e la corona del rosario nella sinistra. Sul loro cuore i santi nomi di Gesù e di Maria e in tutta la loro condotta si ispireranno alla semplicità e alla mortificazione di Gesù Cristo. Cari fratelli e sorelle, lasciatemi mettere in evidenza alcuni punti particolarmente significativi di questo identikit spirituale e morale, di questi uomini e donne di Dio. Saranno, innanzitutto, svetteranno in perfezione evangelica e vigore apostolico, come è palese da tutte le cose dette dal Monfort, e in particolare saranno soggetti a grandi tribolazioni che li purificheranno a fondo. Poi si contraddistingueranno per una profonda unione con Dio. Nessun apostolo può essere tale se non è profondamente unito con Dio, con una vita di preghiera profonda. Saranno totalmente distaccati da ogni creatura. Per creatura non si intende solo persone, ma cose create. Tutto ciò che non è Dio, diceva San Francesco, mio Dio e mio tutto. Dio solo basta. Saranno profondamente abbandonati a Dio, alla sua divina provvidenza, e scongiureranno così le preoccupazioni e le ansietà che sono solite attanagliare le anime dedicate al servizio di Dio, svigorendone la forza spirituale. Chi è libero da ansietà vola come un'aquila. Poi saranno apostoli della verità nella carità di Dio. Importantissimo questo concetto. Non avranno inoltre alcun rispetto umano, ma si ergeranno e si scaglieranno contro ogni peccato e sudiciume morale, contro ogni eresia ed errore che intacchi la sana dottrina e l'immutabile deposito della fede cattolica. Poi saranno perfetti imitatori di Cristo, cristofori, veri cristiani che portano Cristo nel loro membra e nel loro spirito. Seguaci dunque delle sue perfezioni e delle sue virtù divine. Poi non si lasceranno afferrare da nessuna ansietà, non si lasceranno vincere da nessuna soggezione umana, guarderanno solo a Dio in faccia e non agli uomini, per quanto potenti possano essere. La loro condotta sarà interamente ispirata agli atteggiamenti, ai sentimenti e agli esempi del Signore Gesù. Vado avanti e poi ritorniamo su alcuni di questi punti, illuminando alcuni concetti chiave, facendoci aiutare ad entrare in questi concetti, in queste dimensioni, da i nostri amati maestri spirituali. Le due immagini forse più belle e significative che abbiamo trovato in questa presentazione di questi apostoli da parte delle monforti sono la spada a due tagli della parola di Dio, bellissima questa immagine, sulla bocca e la croce e il rosario nelle mani. Cosa significa la spada a due tagli? Che avranno questi apostoli sulla loro bocca? La spada a due tagli della parola di Dio significa che costoro possederanno una profonda conoscenza della verità rivelata. I due tagli della spada sono le due fonti della divina rivelazione, cioè la sacra scrittura e la tradizione vivente della Chiesa. Entrambe questi ardenti apostoli le studieranno, mediteranno e ameranno per poterle insegnare nella più pura fedeltà alle direttive e agli ammaestramenti di Santa Madre Chiesa. Dunque è importantissimo, imprescindibile per un apostolo degli ultimi tempi, possedere questa spada a due tagli e non è possibile averla se non si conosce a fondo la fede che si trova nella sacra scrittura e nella tradizione vivente della Chiesa. La tradizione vivente ha dei luoghi per poter essere conosciuta e questi sono, come insegna la nostra fede, i padri della Chiesa, il magistero della chiesa, il sensus fidelium, cioè quello che i fedeli di ogni tempo hanno sempre creduto essere verità di fede, la liturgia. Questi quattro luoghi si trovano come, possiamo dire, che confluiscono in un buon catechismo. Quindi chi conosce la sacra scrittura e conosce bene il catechismo, un buon e chiaro catechismo, si può dire che possiede questa spada a due tagli. Poi c'è chi può andare più a fondo, ma è importante avere le basi. La croce ed il rosario stanno invece a significare le due armi per ogni battaglia spirituale, la preghiera e il sacrificio, il rosario e l'immolazione di sé. Croce e rosario si presentano come le potentissime armi del cristiano in senso generale, sempre e in ogni tempo, ma in prospettiva profetica sono soprattutto le armi potentissime degli apostoli degli ultimi tempi di Maria. Questi tempi, fratelli e sorelle, questi tempi. Armi dunque che in questi tempi bisogna portare con sé e che utilizzate a dovere da questi apostoli aiuteranno la regina celeste a portare a compimento i suoi progetti di salvezza attraverso l'affermazione del trionfo del cuore immacolato qui in terra. Non dimentichiamo mai, fratelli e sorelle, le battaglie spirituali si combattono e si vincono con il rosario in mano, sgranato continuamente e la croce piantata nel corpo e nell'anima. Non basta contemplarla la croce, guardarla, ma bisogna averla piantata nel corpo e nell'anima attraverso le varie sofferenze della vita accettate amorosamente come Gesù e Maria hanno amorosamente accettato la croce per salvarci. Vedete che in queste dichiarazioni di San Luigi di Monfort ci sono delle realtà profondissime. Per me è difficile far emergere tutta la ricchezza di queste poche battute ma così dense. Cerco almeno di illuminare qualcosa, qualche punto, così come riesco. questi apostoli degli ultimi tempi dunque sguaineranno questa benedetta potente spada della parola di Dio ma anche la spada della croce e come prodi guerrieri la brandiranno e con essa colpiranno i nemici ogni volta che si presenterà loro un sacrificio penoso da offrire, una croce da caricarsi sulle spalle e questo è il modo per affondare questa spada nel cuore dei nemici. Cioè offrire, accettare i sacrifici per quanto penosi possano essere le croci da caricarsi con buona volontà. Spareranno poi con il fucile del rosario, spareranno con le munizioni delle ave Maria letali per i nemici, pregate con fede d'amore, con attenzione e devozione. Spada e fucile saranno davvero in grado di assestare colpi irresistibili che fulmineranno ogni avamposto nemico. Fratelli, non è poesia, è realtà. È realtà. Siamo in una battaglia e quelle che stiamo, di quelle di cui stiamo parlando, sono davvero armi e molto potenti. È veramente come brandire una spada e sparare con un fucile. Nella preghiera infuocata, un altro breve scritto di San Luigi di Monfort, il tema degli ardenti apostoli degli ultimi tempi è da lui più dettagliatamente affrontato, perché mentre nel trattato presenta questi apostoli nella preghiera infuocata invoca questi apostoli, prega Dio ardentemente che mandi sulla terra questi apostoli. E quindi chiede, tra le altre cose, al Signore. O Dio, provengano questi uomini totalmente dedicati a te per amore e disponibili al tuo volere, uomini secondo il tuo cuore, non deviati né trattenuti da progetti propri, realizzino tutti i tuoi disegni e abbattano tutti i tuoi nemici come novelli Davide con in mano il bastone della croce e la fionda del rosario. E che bella questa immagine. Noi abbiamo usato l'immagine della spada e del fucile. Qui il Monfort usa l'immagine del bastone della croce e la fionda del rosario, che erano le poverissime, diciamo, buonissimi strumenti, non possiamo neanche dirgli armi, che Davide aveva portato con sé nella battaglia contro Golia. Difatti, con queste umilissime, insignificanti armi, diciamo così, tra virgolette, sconfisse Golia. E allora anche noi abbiamo bisogno del bastone della croce e della fionda del rosario. Vengano presto, dice ancora San Luigi, questi veri figli di Maria, tua santa madre, concepiti e generati dal suo amore, da lei portati in grembo, nutriti, educati con cura, sostenuti e arricchiti di grazie. Avranno una vera devozione a Maria. Nessun apostolo degli ultimi tempi può essere tale senza una vera devozione a Maria, continua il Monfort, cioè interiore e non ipocrita, esteriore e non ipercritica, cioè bisogna manifestare anche all'esterno la propria devozione alla Madonna, senza questi criticismi, la Madonna è troppo, troppo qua, troppo là e siamo troppo Mariani, troppo quello. No, interiore sì, ma anche esteriore. Poi continua il Monfort, saggia e non superstiziosa, quasi che portare una medaglina, un anelletto della Madonna non mi salva da tutto, ma non è il portare una cosa che salva, ma il vivere le virtù di Maria, affettuosa e non insensibile, deve essere calorosa, costante e non instabile, un giorno sì e tre no, un giorno dico il rosario e cinque giorni non lo prego più, santa e non presuntuosa, deve portare l'imitazione delle virtù di Maria, deve portarmi a guardare lei e voler fare come lei ha fatto il più possibile. Per mezzo di essa, attenzione, per mezzo di questa devozione, così esposta, schiacceranno la testa dell'antico serpente, quindi portare nel proprio cuore, nella propria esistenza, una devozione alla Madonna, così forte, giusta, generosa, vera, permette di essere così forti da schiacciare l'antico serpente e lo faranno dovunque andranno, perché si realizzi pienamente la maledizione da te predetta, io porrò inemicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe, questa ti schiaccerà la testa. Qual è la stirpe della donna? L'esercito di Maria, gli apostoli degli ultimi tempi, ovvero il suo calcagno. Fratelli e sorelle, non sono io che vi dico queste cose, ve le sta dicendo il più grande profeta dei tempi di Maria, San Luigi di Monforte. Se non volete credere a me, credete almeno a lui. Costoro realizzeranno la profezia di Ezechiele, qua San Luigi usa un'altra bellissima immagine, cioè ha un'altra bellissima intuizione, quella di accostare le quattro misteriose figure degli esseri viventi che Ezechiele vide in visione e che poi vengono ribadite nel libro dell'Apocalisse agli apostoli degli ultimi tempi, come se questi, diciamo questi quattro esseri viventi prefigurassero gli apostoli futuri la generazione spirituale di Maria. Bene, dice San Luigi, realizzeranno la profezia di Ezechiele perché avranno la bontà dell'uomo perché ameranno il prossimo con disinteresse e impegno, il coraggio del leone, quindi l'uomo, il leone, il bue e l'aquila, questi erano no? I quattro esseri viventi, visti? Da Ezechiele. Quindi la bontà dell'uomo perché ameranno il prossimo con disinteresse e impegno, il coraggio del leone perché arderanno di santo sdegno e prudente zelo di fronte ai demoni, figli di Babilonia, la forza del bue perché si sobarcheranno alle fatiche apostoliche e alla mortificazione del corpo e infine l'agilità dell'aquila perché contempleranno Dio. Tali saranno i missionari che tu vuoi mandare nella tua chiesa e si avranno un occhio d'uomo per il prossimo perché appunto ameranno il prossimo, un occhio di leone per i tuoi nemici perché arderanno di stegno contro i nemici, un occhio di bue per se stessi perché faranno penitenza e un occhio d'aquila per te perché contempleranno Dio. Cari fratelli e sorelle, mi sembra che questi testi siano particolarmente rilevanti. Si deve davvero pensare che il grande santo francese sia stato favorito da speciali lumi per poter vedere così acutamente questi uomini e queste donne che dovranno venire ma fratelli e sorelle noi abbiamo ottime ragioni per ritenere che questi apostoli almeno in parte sono già presenti, cioè sono questi tempi che devono vedere questi apostoli perché questi apostoli devono schiacciare la testa a Satana perché sono il calcagno di Maria e questo schiacciare la testa a Satana nelle profezie cattoliche è indicato come quel momento, quell'atto spirituale e mareale che permetterà al regno di Maria il trionfo del cuore immacolato di venire sulla terra. Nel momento in cui questi apostoli, questo calcagno di Maria schiaccerà la testa al serpente infernale sarà distrutto il suo potere provvisoriamente non del tutto ma in modo veramente quasi del tutto sulla terra, il potere della terra e di conseguenza si instaurerà un regno di grazia che non è il paradiso in terra ma una diciamo certa pienezza di grazia che porterà dei benefici straordinari alla chiesa e all'umanità. Questo è il trionfo del cuore immacolato. Quindi capite che questi apostoli devono veramente essere già tra noi e altri essere pronti a giungere perché questo è il tempo in cui il tempo di preparazione prossima all'avvento del regno di Maria. Mi voglio dilungare questa volta cari fratelli e sorelle, questa volta voglio proprio fare una catechesi ampia perché questo tema è veramente importantissimo, straordinariamente importante perché in qualche modo ci presenta quelle dimensioni che noi dobbiamo abbracciare come consacrate a Maria e se non lo siete consacratevi alla Madonna, non perdete tempo. Dopodiché c'è da fare un processo di perfezionamento spirituale ma qui abbiamo un binario da seguire perché ci sono delle dimensioni espresse in modo così sapiente da San Luigi. Allora abbiamo visto alcune realtà chiave, cioè la dimensione della tribolazione della croce che questi apostoli vivranno con generosità. Abbiamo anche visto la presenza fondamentale del rosario e della devozione mariana nella vita di questi apostoli. Abbiamo visto anche l'attitudine verso la divina provvidenza, di grande fiducia straordinaria, incondizionata fiducia nella divina provvidenza. Abbiamo anche visto l'unione profonda con Dio che caratterizzerà la loro realtà spirituale e poi il primato della verità che loro avranno sempre presente e si batteranno perché questa verità trionfi. Riguardo alla tribolazione ci dice Sant'Agostino, in te la tribolazione è la fornace dell'orefice, sempre che tu sia oro e non paglia, affinché tu sia purificato dalle scorie non ridotto in cenere. Ecco la tribolazione purifica, non distrugge. E San Giovanni Crisosto? È veramente un gran bene la tribolazione, non possiamo conseguire il regno eterno in altro modo che attraverso la croce. Padre Pio ci ricorda che le tentazioni sono del demonio, dell'inferno, ma le pene e le afflizioni sono di Dio e del paradiso. Le madri sono di Babilonia, ma le figlie sono di Gerusalemme. Disprezza dunque le tentazioni e abbraccia le tribolazioni. E ancora Padre Pio che ci ricorda di operare il bene ovunque affinché chiunque possa dire questo è un figlio di Cristo sopporta tribolazioni, infermità, dolori, per l'amor di Dio e per la conversione dei peccatori. Don Dolindo Ruotolo si ricorda che il cammino della croce è sempre una grande scorciatoia. Chi sale una montagna per le scorciatoie fa un cammino più penoso ma arriva più presto. Chi cammina per la via della croce giunge in poco tempo alla vetta della perfezione. Ebbene il venerabile Fulton Sheen ci dice che dobbiamo impegnarci per la nostra salvezza. Ci saranno croci che ci costruiamo mediante la mortificazione, il rinnegamento di sé ed altre croci che ci sono imposte, per esempio la malattia, una salute malferma, l'ingiustizia altrui. Che cosa facciamo di queste croci? Dobbiamo unirle insieme a nostro Signore sulla croce al fine di guadagnarci la nostra salvezza eterna. Il beato Columba Marmion, un monaco abate, benedettino e scrittore di opere meravigliose, spirituali, ci dice è impossibile andare in paradiso per una via diversa da quella percorsa da Gesù che è la via della croce. La vita non è data da Dio come un paradiso ma è un tempo di prova seguita da un'eternità di gioia e di riposo. Le contrarietà, i malintesi, le pene del cuore del corpo, le difficoltà domestiche, tutto è porzione della vostra croce e quando le accettate queste pene diventano sante e divine per la loro unione con quelle del nostro Salvatore Gesù Cristo. Ecco un po' queste dimensioni che ci siamo qui rapidamente ricordati con questi aforismi, sono quelle che saranno vissute da questi apostoli ultimi tempi, quali però avranno anche una specialissima, tenerissima fiducia e come dicevamo anche incondizionata nella divina provvidenza. Ponete, dice Padre Pio, spesso la vostra confidenza nella divina provvidenza e quello che faranno appunto questi apostoli e siate certi che passeranno più presto il cielo e la terra, che il Signore mancherà di proteggervi. E giustamente, ricorda San Massimo Nocolbe, non è difficile sperimentare noi stessi che a volte ci comportiamo con la convinzione, come ci dice la fede, che la divina provvidenza ci assista, mentre in un'altra occasione ci preoccupiamo in modo esagerato, come se questa divina provvidenza non esistesse. Pertanto la divina provvidenza o c'è o non c'è. Dico io, poiché c'è, sbagliamo ad avere quelle fasi in cui si dubita. Gli apostoli degli ultimi tempi non avranno questi dubbi sulla divina provvidenza, ma ad essa si affideranno totalmente. Il padre Jacques Philippe, nel suo libro La pace del cuore, ci dice giustamente siamo delle teste dure, la parola di Dio non ci basta, vogliamo vedere almeno un po' prima di credere. Non vediamo la provvidenza agire intorno a noi in modo chiaro, come fare per confidarvi? Dobbiamo capire una cosa, non si tratta di sperimentare per poi credere, bisogna prima credere, fare atti di fede e allora si sperimenterà. Esattamente ciò che faranno questi grandi apostoli di Maria. Un esempio, fin quando una persona che deve saltare col paracadute non si sarà gettata nel vuoto, non potrà sentire che le corde del paracadute la sostengono. Bisogna prima fare il salto, solo in seguito ci si sentirà portati. Così anche nella vita spirituale. Dio dona nella misura che attendiamo da lui, dice San Giovanni della Croce. E San Francesco di Sal, la misura della divina provvidenza a nostro riguardo e la fiducia che riponiamo in essa. Proprio questo è il vero problema. Molti non credono alla provvidenza perché non ne hanno fatto mai l'esperienza e non possono farne l'esperienza perché non si decidono a fare il salto nel vuoto, il passo nella fede. Ecco, questo è un po' il senso della divina provvidenza e l'eroismo della divina provvidenza perché comporta fare un salto nel vuoto. Ma più lo si fa, più ci renderemo conto che c'è quel paracadute che ci sostiene vivendo questa dimensione della divina provvidenza. Gli apostoli d'ultimi tempi saranno veramente delle aquile che si voleranno alte in cielo non trattenute da nulla e da nessuno. E poi c'è la necessità di vivere una profonda unione con Dio. Padre Pio ricorda nel corso del giorno quando non ti è permesso di fare altro. Chiama Gesù anche in mezzo a tutte le tue occupazioni, con gemito rassegnato dell'anima ed egli verrà e resterà sempre unito con l'anima mediante la grazia e il suo santo amore. Ecco, questo stare uniti profondamente a Dio è una delle caratteristiche più importanti di questi apostoli e proprio in virtù di quest'unione con Dio che potranno fare il resto. Dove la troverebbero? Altrimenti la forza per proclamare la verità, la forza per credere nella provvidenza, la forza per portare la croce da questa unione con Dio. Dobbiamo un po' fare quello che San Francesco d'Assisi diceva ai suoi frati quando diceva che dovevano essere eremiti anche fuori dal convento, fuori dagli eremi e ciascuno può essere eremita in questo modo. leggiamo cosa diceva San Francesco che ci aiuterà anche a capire in che modo poter coltivare la nostra unione con Dio. Nel nome del Signore andate per via con atteggiamento conveniente soprattutto pregando il Signore nei vostri cuori. Parole oziose e inutili nemmeno siano nominate tra voi. Un'anima unita a Dio non può essere unita a Dio se si perde in chiacchiere inutili continui. Una cosa è parlare di cose che non siano di Dio, è chiaro, anche per necessità o dovere di carità. Una cosa è proprio dilettarsi nelle chiacchiere inutili e nelle stupidaggini. E come si fa poi dopo ad avere, come dire, un'anima ben disposta alla preghiera? O l'uno o l'altro. Tutta questa polvere si, diciamo, accalca, diciamo, addosso e rende impossibile questa disponibilità, questa sensibilità dell'anima per Dio. Quindi ecco, certo, fare come San Francesco diceva ai suoi frati è un po' troppo, però ricordiamoci che l'unione con Dio è una necessità di ogni battezzato e un po' dobbiamo lavorarci. Un po' di robace inutile, bisogna toglierla. Pur essendo in cammino, continua il serafico San Francesco, il vostro comportamento sia così dignitoso come se foste in un romitorio in una cella. Infatti dovunque siamo e andiamo, noi abbiamo la cella con noi. Fratello corpo è la nostra cella e l'anima è l'eremita che vi abita dentro per pregare il Signore e meditare su di lui. Perciò se l'anima non rimane in tranquillità e solitudine nella sua cella, di ben poco giovamento è per il religioso quella fabbricata con le mani. Ecco, questo punto qua di rimanere uniti con Dio anche nel camminare o nel fare qualsiasi altra occupazione è un principio che non vale solo per i frati e sarà qualcosa di profondamente vissuto dagli apostoli degli ultimi tempi. Un giorno Santa Caterina, dispiaciuta che non poteva stare in convento, un po', diciamo, ne soffriva e si lamentava col Signore. Il Signore le disse, Caterina, fatti una cella nel tuo cuore e lì sta sempre con me. Eccoci, questa è la dinamica di questa unione con Dio da vivere e che è possibile vivere anche nel mondo. Stare uniti con Dio nell'interno, diciamo, della propria anima e lì essere come degli eremiti e stare in contatto con lui. Poi questi apostoli, qui concludo, saranno veramente zelanti sul fatto della verità. Non transigeranno e personalmente sono convinto che la battaglia spirituale di questi tempi è e sarà sempre più incentrata sul coraggio della verità. Il principio vero, l'unico vero, il solo che può e deve guidare un vero discepolo di Cristo e i mesi, gli anni che ci stanno davanti, non faranno altro che radicalizzare il carattere antitetico, cioè opposto, di queste due vie, di queste due categorie di persone che già vediamo presenti tra noi. Coloro che sottomettono se stessi all'arbitrare assoluta volontà del potere da una parte, quasi che il potere può fare tutto, può fare anche legge inique, può disporre come vuole, contro la verità, e coloro che invece sottomettono la propria anima al potere della verità. Come dice San Paolo nella lettera a Timopio. I primi saranno sempre più numerosi, non dobbiamo, diciamo, illuderci, purtroppo è così. Ma i secondi, benché pochi, saranno però soprannaturalmente potenti perché è potenza divina quella che li investe, nella misura in cui proclamano e vivono la verità. Benedetto XVI ci ricordava che un cristianesimo di carità senza verità può venire facilmente scambiato per una riserva di buoni sentimenti utili per la convivenza sociale, ma marginali. In questo modo non ci sarebbe più un vero e proprio posto per Dio nel mondo. Senza la verità la carità viene relegata in un ambito ristretto e privato di relazioni. Sant'Antonio di Padova ci ricorda che chi predica la verità professa Cristo, chi invece nella predicazione tace la verità rinnega Cristo. Attenzione, non solo chi dice menzogne o dice eresie rinnega Cristo, ma anche chi tace la verità, che conosce e che sa che deve dire rinnega Cristo. Sant'Antonio di Padova e diceva Sant'Ommaso, la verità soprattutto quando incombe un pericolo deve essere predicata pubblicamente, né deve farsi il contrario per il fatto che alcuni se ne scandalizzano, perché quello scandalo sarebbe lo scandalo farisaico. I farisei si scandalizzavano della verità che Gesù diceva, non per questo Gesù non l'ha detta. Il falso scandalo non dobbiamo evitare, dobbiamo evitare solo il vero scandalo. La verità quando incombe un pericolo deve essere predicata pubblicamente. Ancora Sant'Ommaso d'Aquino, non opporsi all'errore significa approvarlo, non difendere la verità equivale a negarla. Infine il beato Pier Giorgio Frassati, questo meraviglioso giovane ardimentoso e pieno di entusiasmo nel vivere la sua fede, diceva vivere senza una fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere in una lotta continua la verità non è vivere ma vivacchiare. Ecco cari fratelli e sorelle, gli apostoli gli ultimi tempi non saranno di quelli che vivacchiano, ma di quelli che vivono veramente, quelli che vivono per la verità, nella carità. E voglio concludere con una cosa bellissima sul rosario, dato che abbiamo detto che una delle caratteristiche più particolari di questi apostoli sarà la loro marianità, che esprimono e vivono tra le altre cose proprio con il rosario pregato costantemente. Ricordiamoci, non solo gli apostoli ultimi tempi, in realtà ogni uomo, ogni cristiano dovrebbe ricordare che l'amore alla recita del rosario è il termometro spirituale della nostra pietà. Il rosario è una corda tesa fra terra e cielo, che non lascia si perda colui che vi è aggrappato. Il rosario è il catechismo degli analfabeti, è il libro dei ciechi e dei malati, è il custode della virtù dei giovani, è il consolatore dei vecchi, è il riposo del lavoratore, è il compagno di chi viaggia, è lo scudo di chi combatte, è il parafulmine dell'anima e della famiglia. Il rosario ci sosterrà in vita, ci conforterà in morte, onorerà la nostra bara, ci seguirà nel sepolcro per trasformarsi poi in gioiosa corona che cingerà il nostro capo risorto per tutta l'eternità. Recita, fratello, sorella, il rosario ogni giorno, recitalo con raccoglimento, devozione e amore. Per te, per i tuoi, per i vivi e per i morti, di giorno e di notte, in casa e fuori, da solo e meglio ancora, insieme. Recita il rosario, fratello, sorella, vivi nei misteri, fattene apostolo, incorona ogni giorno la tua regina con questa corona di mistiche rose, ti assicurerai così una corona di gloria con cui Maria ti coronerà in cielo. ama anche la tua corona, portala sempre con te. E padre Pio ci ricorda. Quando mandi a lavare il vestito, dimentica pure di togliere i portafogli, ma non dimenticare la corona. Con questa si vincono le battaglie. Sì, fratelli e sorelle, con questa noi affretteremo l'avvento del triunfo del cuore immacolato. Siano lodati Gesù e Maria. Siano lodati Gesù e Maria. Siano lodati Gesù e Maria.